Pronta a provare anche il Kermix alla ciliegia? Raga, questo l'ho amato alla follia, non è che ve li consiglio di più. Troviamo lui. Apriamo. Anche voi la lingua sta qui, quando mettete i luci da labbra e i gloss. Buonissimo, anche questo, cioè sono super felice di averli scoperti, sono uno più buono dell'altro. Guardate che gloss. Spaziale. Al momento quello alla mente ananas è inaspettatamente il mio preferito. Fatemi sapere se vogliamo provare insieme fragola. Buono, anche questo.